Carissimi telespettatori, ma mi piace di più dire amici che avete la bontà di seguirmi in queste chiacchierate di storia locale. La scorsa settimana abbiamo affrontato il tema del contrabbando, raccontando che il contrabbando è tipico delle zone di confine, che era particolarmente importante nelle zone dell'Osso, del Lago Maggiore, del Canton Ticino, del Varesotto, dove rappresentava anche un modo per campare, perché era molto dura spesso la vita del contrabbandiere, soprattutto sulle montagne. Un contrabbando che si sviluppò dal momento in cui venne a terminare la storia del Ducato di Milano, con il passaggio delle zone che oggi fanno parte del Piemonte al Regno di Sardegna e quindi il venir meno di quei vantaggi fiscali che il Ducato di Milano lasciava a queste zone, in quanto non solo era una zona di confine, ma soprattutto era un avamposto di Milano verso la Svizzera e quindi serviva non soltanto che la popolazione fosse relativamente tranquilla, ma che avesse delle possibilità anche economiche data la difficoltà degli approvvigionamenti. Quando invece arrivò il Regno di Sardegna, a partire dal 1743, queste zone divennero assolutamente marginali per Torino, che non aveva più interesse al passaggio attraverso l'Osso, anzi, siccome chi passava per il Sempione e poi andava a Milano trasportava merci per una concorrenza, quindi tolse questi vantaggi fiscali e fu giocoforza iniziare l'attività di contrabbando, ovvero cercare di trasportare merci al di là del confine, ma anche dal confine verso il Regno di Sardegna, giocando sulla differenza dei prezzi. Citato il primo caso documentato del 1757, quando vengono fermati 44 donne nella Valle Vigezzo che trasportarono 10.000 cappelli di paglia. Ci furono anche momenti di tensione nell'Ottocento, assalti alle caserme della Guardia di Finanza nel 1815 a Re, ci fu un caso in cui le guardie di finanza avesse circondate e picchiate, nonostante che fossero chiuse dentro nella propria caserma. E poi continuò, nella fine dell'Ottocento, soprattutto il commercio del caffè. Il caffè era richiesto dalla Svizzera e quindi veniva importato in Svizzera, ma nello stesso tempo insieme allo zucchero, oppure insieme al riso. Ma c'erano anche beni che non c'erano in Italia e che venivano trasportati dalla Svizzera. In realtà si trattava anche di un contrabbando di necessità, pastori, tagliaboschi, che per lavoro si trappossavano di qua o di là e quindi facevano questa seconda attività. La facevano in tutte le stagioni, quindi ci sono state anche delle situazioni di grave pericolo nell'attraversare i confini. Ho citato alcuni casi con le balanghe che hanno fatto morire diverse persone. C'era anche poi la tensione con la guardia di finanze, che a seconda dei periodi hanno sparato sui contrabbandieri che non si fermavano all'alt, infrangendo un tacito accordo che molto spesso nasceva nelle cose concrete, ovvero che se i finanziari bloccavano qualcuno, se queste persone mollavano il carico e scappavano, non venivano inseguiti. Però la realtà dei processi che ho citato che ci sono susseguiti nei decenni testimonia che però molto spesso invece, anche se magari per una parte minoritaria dei casi, le persone venivano arrestate o comunque venivano denunciate e poi c'era il processo. Arriviamo alla fine dell'Ottocento quando lo stesso procuratore del Re chiede allo Stato, ma perché non mettete un sistema fiscale differenziato in vicinanza della frontiera? È l'unico modo per in qualche maniera controllare il contrabbando. Questa proposta di zona neutra, allora si chiamava zona neutra anziché zona franca, non ebbe mai piede anche un progetto di legge del 1886, finì niente e quindi siamo arrivati poi alla situazione attuale, anche perché dopo che nacque il Regno d'Italia 1861 il sistema fiscale fu uniformato dalle Alpi alla Sicilia e quindi le zone di confine, non soltanto la nostra, la stessa cosa succederà nel Barisotto, nel Comasco, in provincia di Sondrio, in tutte le zone di confine, soprattutto con la Svizzera, c'era obiettivamente una situazione di difficoltà. ma ho accennato la volta scorsa al periodo, diciamo, fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando l'oggetto dell'esportazione era il caffè. In realtà durante la guerra ci fu un'altra situazione completamente diversa. Voi sapete che durante la Seconda Guerra Mondiale la Svizzera era un paese neutrale, mentre l'Italia era un paese belligerante. Quindi pensate a poca distanza, magari in barca, attraversando il lago, o il fiume Teresa, addirittura un fiume guadami da piedi, perché c'è ben poca acqua, oppure passando un passo di montagna, si passava dalla guerra alla pace. Voi capite che c'erano molte persone che più diversi motivi volevano andare in Svizzera. Non sto parlando del periodo della guerra partigiana, lo vedremo dopo, e del discorso degli ebrei. Sto parlando di quanti interessi c'erano di persone che dalla grande città volevano emigrare per uscire dalla guerra e nello stesso tempo in Svizzera c'era una situazione di grave penure alimentare. La Svizzera era circondata da paesi in guerra. Siccome molta gente era sfollata in Svizzera e poi la Svizzera non ha grandi risorse alimentari a tante montagne, la Svizzera si trovava in grande penure alimentare e aveva bisogno di importare soprattutto riso, soprattutto grano, cereali, insomma oggetti, zucchero, possibilità di roba da mangiare. Questa roba da mangiare in Svizzera non c'era e allora durante la guerra nacque un contrabbando al contrario, il contrabbando che dall'Italia andava in Svizzera, soprattutto trasportando il riso. Era una filiera che partiva dalle zone di Novara, dalle risarie dove c'erano appunto riserve di riso, veniva trasportata al confine, veniva tramite spalloni, tramite i contrabbandieri che si mettevano sulla schiena fino a 50 kg di riso, traversavano magari una notte intera la montagna per agrare in Svizzera. Ma a quel punto, se fino al giorno prima gli svizi erano stati tolleranti nel contrabbando verso l'Italia, a quel punto le guardie svizzere non erano contente, ovviamente il governo svizzero, di questo arrivo, diciamo così, di materie prime che sfuggivano però al sistema fiscale, ma nello stesso tempo il governo svizzero capiva che non c'erano altri mezzi per approvvigionarsi. Quindi, a seconda delle direttive, a seconda delle situazioni, non c'erano soltanto le guardie di finanza e da allora la milizia confinaria che sparava o comunque cercava di intercettare i contrabbandieri che andavano verso la Svizzera, ma anche, e lì cambiava molto la situazione, c'erano anche i brigadieri, le guardie confinare svizzere che non volevano che queste persone arrivassero dall'Italia. E quindi per quel periodo è stato un periodo molto difficile per chi esercitava il contrabbando, però era anche un periodo molto più redditizio, perché proprio per la carenza che c'era di roba da mangiare, i prezzi variavano molto, c'era la cosiddetta borsa nera, cioè venivano comprati sotto banco i generi alimentari e quindi chi riusciva a procurarsi riusciva a guadagnare di più. C'è un verbale dell'apertura di Locarno del 23 giugno 1944, 23 giugno 1944 sono i giorni del grande rastrellamento in Valgrande, ma chi adesso vi leggo questa parte è un contrabbaniere normale, non ha rapporti con i partigiani, ma viene intercettato dalla guardia confinare a Svizzera e viene portato in prigione a Locarno e gli viene fatto il verbale. Se lo leggiamo, è brevissimo, ci spiega bene cosa succedeva in quei giorni. Dice appunto questa persona, la mia famiglia abita a Toceno, i figli sono tutti minorenni, io lavoro nella mia azienda agricola e posseggo tre mucche, c'è che un mese fa, non ricordo più il giorno, entrai in clandestinamento in Svizzera in compagnia di altre cinque persone con lo scopo di portare del riso. Io avevo con me 15 kg di riso, fui fermata alle guardie svizzere sulla montagna sopra Vergeletto e fui condotta al posto delle guardie di confine dove eri trattenuto per due giorni. Il riso mi venne sequestrato e io venne riaccompagnato al confine con l'ordine di non tentare più in Svizzera. Qui va detto che è probabilmente una bugia, nel senso che tutti dicevano che era la prima volta che facevano contrabbando perché se ammettevano che l'avessero già fatto altre volte rimanevano in galera, la prima volta venivano espulsi. Malgrado ciò, quindi lui giurò quel giorno che non sarei più entrato in Svizzera, malgrado questo ordine l'altra sera, giorno 19, 40 mese, verso ore 18, tentai di entrare nuovamente in Svizzera. Ero anche questa volta in compagnia di altri contrabbandieri. Fui però nuovamente fermato con altri compagni e tradotto alle carceri di Locarno. La merce che avevo con me, circa 15 kg di riso, mi venne sequestrato. Faccio notare che malgrado la mia famiglia abiti a Toceno, mi trovo sempre nascosto sulle montagne perché se vado nel paese vengo preso dalla milizia, aggiungo io fascista, e inviato in Germania. Solo per questo ci cerca ogni mezzo per procurarsi da vivere e questi mezzi ci vengono dal contrabbando. Sulle montagne vi è abbastanza riso, che viene a noi portato in Svizzera, piuttosto che lasciarlo nella mani dei tedeschi. Prometto in modo assoluto che se vengo rilasciato mi guarderò bene dal tentare nuovamente di passare in Svizzera e prendo atto di eventuali conseguenze che potrebbero a me derivarmi da un nuovo tentativo di tal genere. Letto, lo approvo è sottoscritto. Io non so se questo signore poi sia tornato in Svizzera come molto probabile, sperando che non fossero gli stessi. Probabile però che si trovò anche lui in situazioni di estrema difficoltà. Perché? Perché in quel momento durante la guerra, ripeto, la carenza di beni alimentari era molto difficile, la situazione era molto difficile e lo divenne ancora di più nei mesi successivi. Per esempio, quando arrivò la Repubblica Partigiana dell'Ossola nel settembre-ottobre del 1944, la situazione precipitò. Perché quando fu chiuso praticamente il confine sud all'altezza di Ornavasso e le cose da mangiare non salivano più verso l'Ossola, tanto meno, tanto di più, se qualcosa uscire dall'Ossola verso la Svizzera, sarebbe stato togliere il mangiare agli ossolani. E allora c'è una situazione di estrema difficoltà. Per esempio, la Brigata Matteotti pubblicò a Domodossola un manifesto che ho qui. Brigata Matteotti comando. Da molto tempo ormai la piaga del contrabbando continua a impoverire l'Ossola, già così scarsa di risorse. Ma ogni chilogrammo di riso, ogni metro di stoffa contrabbandato viene sottratto al normale consumo della popolazione civile, che viene continuamente a aumentare i prezzi di genere di prima necessità. In base a tutte queste considerazioni, il comando della Brigata Matteotti ha deciso per la sua zona di impedire ad ogni costo il contrabbando. Gravissimi provvedimenti saranno pertanto presi nei confronti di coloro che non temperassero alla detta disposizione. Addirittura una delibera della giunta di governo di Domodossola, proprio nei giorni, Domodossola, 20 settembre 44. Alcuni individui non degni di essere italiani hanno ripreso il contrabbando di genere alimentare e tessuti verso regioni limitrofe alla zona liberata. Sono additati al disprezzo di tutta la cittadinanza questi contrabbandieri che sottraggono pro lucro loro i genere di prima necessità ai nostri combattenti e alle popolazioni tutte della zona liberata. Tutti coloro che verranno sorpresi in fragranza, in fragrante, non flagrante, ma fragrante, il profumo, un errore di stampa a me è così l'originale, in fragrante contrabbando o che dalle indagini risultasse che facciano tali contrabbando saranno passati per le armi. Domodossola, 20 settembre 1944. Questo per dirvi come diventò la situazione estremamente difficile per queste persone, anche perché se da un certo punto di vista c'era il problema del trasferimento delle merci, era diventato un via vai il passaggio delle persone. Pensate a quante migliaia di persone hanno cercato di attraversare il confine in quel periodo terribile. Prigionieri alleati che erano scappati da vari campi di concentramento di prigionieri in Italia, antifascisti, ebrei, gente ricca che semplicemente voleva andare in Svizzera per cercare di far passare il tempo. Ora, voi capite che già non c'era da mangiare, già era difficile arrivare in Svizzera, gli svizzeri non volevano più accettare della gente, perché bisogna anche sfatare spesso delle, come dire, non dico delle leggende. Se eri ebrei o arrivavano in Svizzera, sintetizio venivi sempre accolto, perché si dava per scontato che fosse grave pericolo di vita in quel periodo l'essere ebrei in Italia. Ma se non eri ebreo dipendeva dai soldi che avevi. Qualche volta succedeva anche che persone venivano depredate prima di passare il confine. Noi non sappiamo nei dettagli queste cose. Ci furono persone che persero la vita aiutando persone a attraversare il confine. Probabilmente ci fu anche qualcuno che ammazzò qualcuno, depredò qualcuno che stava con i soldi attraversando il confine. C'era una rete che a seconda di com'era organizzata aveva meno probabilità di successo. La rete che funzionava meglio era quella delle autorità religiose che riuscivano a aiutare persone che partivano da Milano, arrivavano a Intra, andavano a Cannobbio in battello, venivano ospitate in case, tra virgolette, sicure di Cannobbio, poi portate in montagna e da lì attraversavano il confine. Qualche volta andava bene, qualche volta andava male. C'era poi tutto il problema dei ragazzi, ragazzi renitenti alla leva che non avevano accettato di fare soldato con la Repubblica Sociale, che nello stesso tempo non erano partigiani. E' chiaro che questi cercavano di scappare in Svizzera, ma non sempre. A volte venivano aiutati e si ritrovavano ancora in Italia convinti di essere in Svizzera e invece venivano addirittura aspettati dall'autorità fascista che li aspettava al confine. Sovente, sicuramente ci sono testimonianze anche d'accordo con chi aveva fatto magari la soffiata perché venivano pagati dei soldi. Una situazione di estrema difficoltà che continuò anche dopo la guerra. E uno dice, ma come mai? Ormai la guerra era finita, la situazione si era sistemata. Beh, innanzitutto ci fu nel 1945 una grande quantità di fascisti che scappavano in Svizzera perché avevano paura di essere processati, perché avevano dei crimini da scontare, perché avevano paura e quindi scapparono verso la Svizzera. Le autorità svizzere anche in questo caso furono molto flessibili. Alcuni furono accettati, altri furono respinti. E la fortuna di essere intercettati al confine era veramente sul filo di lana perché poteva andarti bene, poteva andarti male. E passata l'ondata dei primi mesi, una volta sistematasi la situazione, più o meno nell'estate del 1945 erano finite le esecuzioni sommariche che ci sono state anche nella nostra zona e quindi è un particolare che sovente viene dimenticato e quindi portava ad avere un particolare timore. Nell'estate del 1945 chi non l'aveva combinato troppo grosse, insomma, vedeva che era ora di ritornare a casa e bene o male la situazione andava tranquillizzandosi. Ma in Svizzera la situazione alimentare era peggiore ancora di quella della guerra perché tutti i paesi intorno erano alla fame, l'Italia era alla fame. Ricordatevi che c'è stata un'inflazione non durante la guerra ma subito dopo la guerra. C'erano le hamlieri ma non si trovava niente da mangiare. Gli stipendi non riuscirono più a essere sufficienti in quella situazione. C'era il mercato nero ma la Germania era distrutta, la Francia era distrutta, l'Austria era distrutta che faceva parte all'allora della Germania. Quindi gli Svizzera erano circondati da ex paesi che morirono di fame. Ma in Svizzera non si produce qualcosa ma non molto. Quindi questa situazione andò avanti dal 1945 al 1948 con la differenza che se si leggono le cronache i contrabbandieri non lo facevano più contrabbandieri di necessità come erano prima ma veri e propri delinquenti. Cioè persone che non avendo un lavoro regolare facevano i contrabbandieri di mestiere ma sparavano e allora se sparavano loro la guardia di finanza la guardia di finanza sparava i contrabbandieri. Quindi fino al 1948 fin quando non si è un po' assestata la situazione economica si continuò nel contrabbando ma si continuò anche in situazioni di tensioni che prima non c'erano mai state. Ed iniziò un altro tipo di contrabbando nel 1948 il contrabbando delle sigarette. Perché fu nel 1948 una data importante per il commercio delle sigarette che prima sì c'era ma non era granché. Perché nel 1948 la Svizzera tolse il monopolio sulle sigarette, tolse la tassazione sulle sigarette e quindi diventò legale per gli svizzeri esportare sigarette dalla Svizzera verso l'Italia. Perché avevano ricominciato a produrle loro e quindi volevano venderle. Prima invece i gendarmi svizzeri potevano bloccare e bloccavano i contrabbandieri anche se molte volte chiudevano gli occhi che andavano dall'Italia alla Svizzera, caricavano in Svizzera e venivano in Italia. Perché? Perché a quel punto nel 1948 se il contrabbandiere o meglio se l'organizzazione contrabbandiera pagava una piccola tassa, quel tabacco diventava ufficiale, diventava pulito tra virgolette, non lo era per l'Italia. Quindi c'era tutta un'organizzazione che portava il tabacco fino a prossimo al confine, magari a 100 metri dal confine, lo nascondeva, qualche casolare, qualcuno rimaneva lì presidiato e i contrabbandieri non dovevano più fare il viaggio di salita fino al confine, discesa al paese, il caico e ritornare indietro. Ma dovevano semplicemente uscire dal confine italiano, caricare e rientrare in Italia. Mezza fatica, doppio lavoro? Sì, mica tanto, perché i posti dove si possono attraversare le montagne sono abbastanza noti e ovviamente le guardie di finanza stavano dove era più possibile. Passo Bondelli sotto Macugnare era il posto tipico dove era facile trasportare sigarette da Matmar, da San San Magal verso la Balanzasca. E quindi ecco il passaggio, il moltiplicarsi del contrabbando, dei controlli e anche delle situazioni di tensione. Inoltre il trasporto delle sigarette cambiava completamente quello che era lo stile contrabbandiero. Perché la Guardia di Finanza iniziò logicamente non tanto a presidiare i confini o non sempre per lo meno i confini esattamente al confine dove passava in Italia alla Svizzera grazie a un cippo che ti diceva appunto che è passato da un versante all'altro. Ma iniziava a fare i posti di blocco all'imbocco delle valli e quindi bloccava i carichi non in cima alle montagne ma nelle strettoie delle strade. Quindi posti di blocco intorno a Domodossola, a Varzo, a Cremola d'Ossola, dove scendono le strade perché se tu vuoi portare fuori qualcosa dalla Val Formazza o dalla Val Bognanco alla fine a un certo punto deve arrivare a Domodossola, se no devi risalire un'altra volta. Allora intanto c'è qualcuno che cominciava a fare il contrabbando interno. Quando io facevo ragioneria, sto parlando della fine degli anni 60, io avevo dei compagni di scuola di Aurano che non andavano in Svizzera a fare contrabbando, andavano fino al confine, caricavano, risalivano, chi conosce un po' le nostre zone, Pianvadà, abitavano ad Aurano, venivano a scuola e portavano le sigarette che gli erano state richieste la settimana precedente e rimanevano a Aurano. Quindi il contrabbando non era più sul confine ma era interno perché la gente per sfuggire alla prima rete di controlli la portava all'interno del territorio. non solo, all'organizzazione territoriale contrabbandiera si sostituì la mala vita, la mala vita delle grandi città che aveva in tutto il confine, non soltanto dalle nostre parti, le sue reti di trasporto, quindi carichi di macchine, la tipica Giulietta staripante di sigarette che al cento all'ora corre per la strada del Sempione in seguita dei finanzieri che sparano alle gomme. succedeva ed è successo, addirittura c'è stato un signore che faceva l'autista per la, e questo è documentato, per la Croce Rossa di Domodossa, ma ogni tanto l'ambulanza usciva a sirene spiegate dall'ospedale, in realtà andava, prendeva un carico di sigarette e poi proseguiva per Novara a sirene spiegate. Dopo un po' se ne sono accorti, l'hanno intercettato e ovviamente denunciato e messo in prigione l'autista infedele di questa Croce Rossa. c'è un altro sistema pericolosissimo, venivano caricate sui tetti dei vagoni delle bricole di sigarette, facevano tutto il percorso attraverso il traforo del Sempione, quando usciti da Iselle si arrivava a Varso, durante la seconda galleria i contrabbandieri che stavano per tutto il periodo sul tetto dei vagoni, attenzione perché ci sono i cavi elettrici, toccare un cavo elettrico voleva dire morire, ma riuscivano stando schiacciati, quindi immaginate, arrivavano alla seconda galleria e a un certo punto nei posti organizzati buttavano giù dal treno, dai cari merci, le bricole di sigarette e poi dopo ritornavano, dovevano per forza rallentare i treni perché anche allora c'erano le gallerie elicoidali, scendevano e sparivano e poi qualcun altro raccoglieva lungo la linea ferroviaria del Sempione dei pacchi di sigarette, di centinaia di pacchetti alla volta. Tutte queste più o meno ingegnose attività sono andate avanti fino agli anni 60, l'apici del commercio delle sigarette, delle bionde, del contrabbande di sigarette, sono arrivati intorno agli anni 60, poi è finito quasi improvvisamente negli anni 70, perché? Perché non c'era più l'utilità di farlo, perché i prezzi delle sigarette in Svizzera si avvicinavano a quelli italiani e quindi non convieneva più esportarli perché non c'era più un differenziale notevole, poi perché c'erano stati gli episodi come quello che ho raccontato la volta scorsa, cioè un contrabandiere ucciso dai finanzieri e poi perché sostanzialmente non valeva più la pena dal punto di vista economico fare tanta fatica. Sono cambiati i sistemi, si cercava di esportare sigarette con i camion o con i camion con il doppio fondo, questi sono continuati questi sistemi del finanziario, ma è stato un contrabbando che non aveva più, diciamo così, un carattere sociale, era diventato un vero e proprio malaffare, che poi si è perso, almeno per quanto riguarda le sigarette, appunto per mancanza di interesse. È iniziato il contrabbando valutario, finché il denaro è rimasto sostanzialmente in banconote, come oggi, ma poi l'arrivo della moneta elettronica ha tolto importanza allo spostamento delle banconote, si faceva prima andare a prendere le banconote svizze al Credit Suisse per dire di Milano che non fare fisicamente trasportare la frontiera con il rischio del sequestro. Ecco, questa era un po' la storia del contrabbando che si è stato da nostre parti e che spero di non avervi annoiato cercando di raccontarvelo così, un po' alla buona, in queste due puntate dedicate al contrabbando. Ci sentiamo la prossima settimana, ovviamente con temi completamente diversi. Parleremo di San Carlo Borromeo, così almeno rimaniamo santi. Buona serata a tutti.